Buongiorno amici, oggi voglio presentarvi la serie dei libri bilingui bilibrini, questi qua. Vediamoli insieme! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Perfetti sia per chi studia l'italiano che per chi studia il tedesco, sia per bambini sia per studenti. La lista dei vocaboli che c'è in fondo ad ogni pagina, sia in italiano che in tedesco, è perfetta per memorizzare nuovi vocaboli su uno specifico tema. Sono davvero consigliati e sono anche economici. Li puoi trovare nel nostro negozio e per qualsiasi cosa non esitare a contattarmi. A presto! Ciao!